Qual è il problema principale del narcisista? La difficoltà principale è quella della mentalizzazione. La mentalizzazione consiste nella capacità di rappresentarsi gli stati mentali propri e gli stati mentali altrui e quindi ha a che fare con la capacità di comprendere il comportamento degli altri, provando empatia. Il comportamento del narcisista appare spesso teatrale, appare isterico. Infatti, non a caso, i narcisisti tendono ad esternare questioni personali come se fossero di grande interesse generale. Il rapporto interpersonale è dominato da un sentimento ambivalente di sudditanza-dominio. Poi ci sono anche difficoltà a generalizzare gli apprendimenti. E questa qualità va riferita allo scarso sviluppo simbolico che non è presente nel narcisista. Le difese del narcisista sono prevalentemente la proiezione, a volte la scissione, e l'ambito psicoaffettivo è accompagnato da una siderazione affettiva che impedisce il rapporto empatico vero, il rapporto profondo. In poche parole, il parere degli altri viene svalorizzato. Ed è sufficiente una sola critica o una disattenzione che l'altro venga catalogato subito come ingannevole, come disonesto. L'altro diventa minaccioso. E questo il narcisista non se lo può permettere. Ecco perché il narcisista alla fine ha dei segreti ed è perseguitato dal pensiero che in un qualunque momento questi segreti possano essere scoperti dall'altro. Ricordiamoci che il narcisista ha un senso di inferiorità inconscio. Quindi tende a percepire la realtà esterna come ostile, come avversa. Perciò il suo non può essere un amore disinteressato. L'amore del narcisista non è mai disinteressato. Non ci può essere naturalezza in una relazione narcisistica. Non ci può essere sincerità. C'è sempre una certa dose di finzione e di menzogna. Ma questo perché? Perché il narcisista tenta disperatamente di essere altro da sé. L'altro che il partner desidera tenta di essere l'altro che il partner desidera. Quindi il narcisista incarda un miraggio, un ideale. E questo è collegato al discorso del segreto. Da qui nasce il segreto del narcisista che lo costringe ad un'esistenza falsa basata su un senso di vergogna che rimane inconscio, quindi non consapevole e che lo fa essere smanioso e irrequieto come se fosse perseguitato dal ricordo di qualcosa che assomiglia ad un tarlo. Un tarlo che testimonia lo spettro del fallimento. Cioè l'incapacità del narcisista di vivere il desiderio in tutta la sua profondità. Il narcisista non può permettersi il lusso di provare sentimenti profondi. Non riesce a dare le sue giornate una particolarità nuova, perché sono tutte giornate vuote, prive di quella passione che si lega al mondo delle emozioni. Perciò le sue giornate sembrano diverse. Sembrano, ma nella loro essenza sono tutte uguali. Il narcisista avverte una specie di rancore, un sordo rancore per non poter superare la sua strutturale apatia che nasce dalla sua mancanza di coinvolgimento affettivo. E così cosa fa? Anela e vagheggia una relazione travolgente. Vagheggia, ma non la raggiunge mai. Non la raggiunge mai pienamente, si illude di possederla. Ma quando la potenza di Eros sta per esplodere, lui si sottrae. Il narcisista si nega, fugge a gambe levate, ma per la paura di essere travolto dal torrente in piena dei sentimenti. Sentimenti che non saprebbe gestire. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube. Roberto Ruga, psicoterapeuta. Buona giornata. Grazie.